Il Fido Gismondi Il sistema di foratura ha ripreso Cher dopo un furioso inseguimento e ora si presenta tutto solo al traguardo dove lo attende la maglia dai colori dell'arcobaleno. Il vincitore del Giro di Francia ha pienamente meritato di conquistare anche il titolo di campione del mondo, luminoso premio di una stagione d'oro.